Questa è l'ultima foto di Tonino Calò con il fratello Angelo, quello cui forse era più legato, morto due anni fa per una grave malattia. Tra le ipotesi bagliate dai carabinieri che indagano sul duplice omicidio di Serranova c'è pure quella relativa a possibili contese sulla piccola casa colonica e sulle frazioni di terreno che Angelo avrebbe lasciato in parte anche a Tonino e a sua moglie Caterina Martucci, i quali peraltro non avevano figli. I coniugi, lui 70 anni, lei 64, sono stati massacrati nel casolare in cui abitavano e che altro non è se non l'ex stalla delle mucche allevate dai genitori di Tonino arrivati a Serranova agli inizi degli anni 50 sfruttando le agevolazioni della riforma fondiaria. Su una cosa i carabinieri sembrano non avere dubbi. La furia omicida con cui l'assassino ha infierito sulle sue vittime, una fucilata al collo di lui, due alla testa di lei, tutte da distanza ravvicinata, sembra alimentata da un forte rancore personale, anche e soprattutto nei confronti della donna. Ecco perché la pista del tentativo di rapina, finito nel sangue, è apparsa sin dal primo momento marginale. Secondo me è un pazzo, è un pazzo, non lo so che cosa ma è stato sicuramente un pazzo. È andato lì, ha aperto la porta e si è messo a sparare, e si è messo a sparare contro queste persone. Ecco, questo posso pensare io, perché nemici, noi io, nessuno c'è, abbiamo nemici qua. Secondo Carmelo, il fratello di Tonino, che ha dato l'allarme ai carabinieri mercoledì sera, dopo aver trovato i due cadaveri straziati, l'assassino sarebbe invece un pazzo, che avrebbe dunque agito quasi a caso, ma la pista dello squilibrato non sembra essere presa molto in considerazione. Elementi decisivi potrebbero arrivare dalla perizia autoptica, che determinerà con sufficiente precisione il giorno e l'ora in cui la coppia è stata massacrata, forse tra la mattina e il pomeriggio di martedì, cioè oltre 24 ore prima del ritrovamento. L'autopsia sarà affidata lunedì mattina al medico legale Domenico Urso e si svolgerà nell'obitorio del cimitero di Ostuni, dove i corpi sono stati trasferiti. Sarà la comunità del borgo a farsi carico delle spese, togliendo l'incombenza alla famiglia e testimoniando così l'affetto per due persone amate da tutti. La cerimonia sarà celebrata dal parroco di Serranova, Don Pino Nigro, nella chiesa di Santa Maria Goretti, patrona del borgo.